Molto speciale, molto pieno di ottimismo e di entusiasmo. La ripartenza credo che fosse necessaria, ma soprattutto la prova che la vaccinazione è fondamentale. Guardiamo e confrontiamoci allo scorso anno, sia per quanto riguarda la serata, sia per quanto riguardano i numeri. Adesso dobbiamo ancora resistere un po', dobbiamo ricontinuare a vaccinare per cercare di superare anche questo leggero innalzamento. La cosa positiva è che siamo ancora in una fase di innalzamento, ma un innalzamento che sta gradualmente eccedendo.